Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò dei lavoratori precoci e della pensione anticipata. I lavoratori precoci sono coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa da giovanissimi, ovvero coloro che hanno iniziato ad avere i contributi previdenziali prima del 1 gennaio 1996 e possono far valere nella propria posizione assicurativa almeno un anno di contributi previdenziali prima di aver compiuto il 19esimo anno di età. Per questa tipologia di lavoratori è previsto l'accesso alla pensione al raggiungimento dei 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Oltre ai requisiti illustrati in precedenza, i lavoratori precoci devono trovarsi in una delle seguenti condizioni. Stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. Aver svolto attività usuranti per almeno 7 anni nei 10 anni precedenti la domanda. Essere in possesso di un'invalidità pari o superiore al 74%. Assistere da almeno 6 mesi un familiare, coniuge, o parente di primo grado, convivente affetto da handicap in situazione di gravità. Rientrare in una delle categorie, lavori gravosi. La pensione anticipata per i lavoratori precoci, affardata dalla sua decorrenza, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all'estero per il periodo di anticipo rispetto al momento in cui il lavoratore avrebbe perfezionato il diritto alla pensione anticipata con i requisiti ordinari. Grazie per l'attenzione